Quest'anno abbiamo il nutrizionista al seguito del Giro d'Italia. Credo che non approverebbe la condotta alimentare di questi tre, ma beati loro. Noi andiamo invece a sentire le pillole che ci regala Yader Fabri. Yader Fabri con voi in giro per parlarvi di macronutrienti. I macronutrienti sono tutti gli alimenti contenuti in questo splendido mercato. Che cosa possiamo trovare? Possiamo trovare i carboidrati, che non sono altro che tutto quello che deriva dalla terra, quindi i cereali, la frutta e la verdura. Oppure possiamo avere un altro macronutriente, che sono le proteine. Le proteine sono tutto quello che cammina sulla terra, nuota nell'acqua e vola nell'aria. Quindi la cacciagione, il pesce e la carne o altri tipi di derivati animali come le uova. Poi possiamo avere i grassi. I grassi che cosa sono? Sono i grassi animali o grassi vegetali, come olio, margarina, burro o frutta seccoleosa. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Comunque noi a cena con lui non ci andiamo più, eh Andre? Esatto, perché queste cose non potresti mai mangiarle, invece sono ottime, pizza e patatine. Sì, di sicuro. Allora, oggi intanto...